Ragazzi, una promessa è una promessa, vi avevo chiesto 3000 like nel video precedente e voi avete decisamente sfondato le aspettative anche a livello di iscrizioni, dato che non ho fatto in tempo a ringraziarvi dei 25.000, adesso siamo a 26.000 iscritti e quindi volevo mantenere la parola data. Sono riuscito a mettere le mani su uno dei pochissimi esemplari rimasti di Uovo di Pasqua di Chiara Ferragni, quelli dietro quella gigantesca truffa in nome della beneficenza dell'influencer, di cui l'influencer si è resa responsabile, e quindi sono qui con voi per recensire tutto ciò. Ragazzi, è difficilissimo trattenere l'emozione in questo momento, è davvero un momento particolare per il canale e io ringrazio tutti voi per la fiducia che mi avete dato, fiducia mal riposta, perché le Uova di Pasqua praticamente non ci sono più. Però non mi sono perso d'animo, lo sapete. Infatti con l'aiuto delle Sbortus Industries ho fatto realizzare dai nostri artigiani professionisti una perfetta replica dell'Uovo di Pasqua di Chiara Ferragni, sia nella composizione, sia nella forma, sia nel packaging. Ed eccolo qui, ce l'ho davanti a voi. Quindi ragazzi, spero vi piaccia. Allora, lo sto stringendo tra le mani in questo momento, devo dire che i grafici della Sbortus Industries non si smentiscono mai, dopo tutto raccogliamo soltanto le figure professionali migliori mai esistite sulla faccia della Terra, e quindi possiamo effettivamente provare ad assaggiare per vedere se almeno l'Uovo di Pasqua vale il prezzo d'acquisto. Rimuoviamo il packaging con molta molta attenzione. Ok, possiamo osservare l'Uovo. Vi manderò un'immagine chiaramente zoomata perché la professionalità della Sbortus Industries è tutto. Vediamo nella parte anteriore il logo. I nostri grafici l'hanno riprodotto molto fedelmente, devo dire, con sotto la scritta Fairy Egg, probabilmente è la scritta originale che c'era nella versione alfa dell'Uovo di Pasqua, e dietro si è cancellato tutto, ma io vi assicuro che c'era scritto VIVA I BAMBINI MALATI. È chiaramente un rimando allo scopo per cui stiamo comprando quest'Uovo a 69 euro e 99 centesimi, chiaramente per aiutare, chiaramente per aiutare i bambini malati. E quindi dopo ciò fatemi provare questo fatidico Uovo. Io ho aspettato un'idea. Non so voi, ma io questo lo chiamo un successo totale. Perfetto ragazzi, procediamo all'assaggio. Che cosa mi aspetto da questa pietanza? Chiaramente mi aspetto che, uno, sappia di cioccolato, e due, mi aspetto di sapere che i bambini stiano un po' meglio dopo che ho fatto questa cosa. Speriamo che lo sarcoma di Aerowing guarisca adesso che ho fatto ciò. Se vedete che sta affilando, sappiate che io non ho aggiunto formaggio. Io non so come questa cosa sia possibile. Io direi di procedere finalmente all'assaggio. Allora, si sente il salato, quindi top, devo dire, abbastanza soddisfatto di ciò. Si sente anche un po' di pepe nero. C'è un piccolo problema, non sa di cioccolato. Chiara, non sa di cioccolato. Che facciamo? Cioè, ok che non aiuto i bambini malati in questo modo, ma deve sapermi di cioccolato, l'uovo di Pasqua. Hanno ragione a definirti una truffatrice. Ok, dato che tutto sarà durato tipo due minuti e mezzo, voglio intrattenervi per un altro po' di tempo leggendo una mail un po' minaccioso che mi è arrivata nel momento in cui ho dichiarato di voler comprare l'uovo di Pasqua a Ferragni. Quindi regia, manda il gameplay di sottofondo, e noi ci vediamo alla prossima. Allora, non so se questa persona si sia effettivamente svegliata con il piede storto, ma del tipo che ha messo il piede a terra si è procurato una frattura scomposta alla caviglia e nel frattempo gli è anche partito il meniscolo all'altro lato. Ma nel momento in cui ho annunciato il video con l'uovo di Pasqua, questo utente mi ha scritto un muro di testo pieno di insulti e minacce. Ovviamente, i commenti così vengono messi in automatico dalla piattaforma in revisione, in attesa della mia approvazione. Quindi, non vedendo il suo commento, ha deciso di riscrivere tutto via mail e aggiungere anche accuse di censura. Ma vi leggo cosa ha scritto, perché è incredibile. Allora, già il titolo mi fa morire e setta già il tono per tutto. Ma andiamo avanti. Ti copio e incollo il commento che hai cancellato, dato che non hai il fegato nemmeno di far vedere le critiche, pezza di verda. Non conosci le regole base della piattaforma. Non sono io che elimino i commenti. A volte li metto in revisione, se ci sono troppe parole compromettenti. A volte metto in revisione anche roba a caso, a volte non li vedo neanche in revisione. Quindi chiedete a qualsiasi collega e vi dirà la stessa cosa, perché YouTube è fatto diversamente bene con la moderazione dei commenti, soprattutto negli ultimi anni. Ma che video di m***a hai fatto? Sul serio? Un altro, perro. Un video di 20 minuti in cui analizzi il nulla di fatto, ma falla finita. Abituatevi all'assenza di punteggiatura. Con questa mabfrina noio, inoltre voglio dirti una cosa riguardo il video sul uovo di Pasqua, non ti azzardare. E qui io mi sono messo a notare dei dettagli. Numero 1. Questo qui scrive palesemente al PC, perché certi sbagli il correttore te li fa cambiare. Ma qui ad esempio ha lasciato sul uovo. Però si è ricordato di scrivere Pasqua con la P maiuscola. Adoro sti commenti scritti in fretta, proprio con la rabbia in corpo, che però hanno questi dettagli che sono incredibili. Dicevo, non ti azzardare perché pì la volta buona che ti segnalo in massa. 1. Perché metti video violenti di videogiochi. Tra parentesi. Imbarazzante. 2. Perché stai diffamando una persona che aiuta i poveri, ma ha avuto la sfortuna di fare un passo falso e così sciacalli come te ci fanno i contenuti sopra. Ok, rispondiamo a queste critiche un po' goffe, dai. 1. Video di videogiochi. Sì, il format commentary esiste dal 2012, tipo, e nessuno ha mai buttato giù un canale commentary. Quindi apprezzo il fatto che tu ti stia impegnando, ma devo dirti che i videogiochi violenti sono contemplati dalla piattaforma, perché sono finti. Non so se hai presente la distinzione tra la realtà e un'opera di finzione. Non esiste da ieri sera, non esiste solo nel videogioco. Siamo creature che si sono un attimino evolute, e quindi sono in grado di entrare in un patto narrativo, di immedesimarsi in un mondo di finzione. È così che funziona, te lo giuro. Inoltre, trovo che queste scene facciano un sacco di contrasto con me che argomento in modo tranquillo, così con quattro ore di sonno, tutto stordito, non capente nulla. Alla fine questo canale si basa su quelle contraddizioni che creano ilarità. E voglio continuare su questa strada. 2. Sto diffamando una persona che aiuta i poveri. Fra, come posso dirtelo in termini pacati, e sa di uovo strapazzato, quell'uovo di cioccolato, non sapeva di cioccolato, te l'ho anche dimostrato, ma che diffamazione! Ho fatto vedere solo fatti reali documentati. Da ciò si denota la tua superficialità, nonché la tua mancanza di attenzione, lo sai? Conclude scrivendo, questo è il mio commento, ti piace? Con due punti interrogativi e un apostrofo, perché gli hai sfuggito il dito sullo shift? Perché me l'hai cancellato? Dimmi cortesemente perché non hai neanche le palle di far vedere le critiche. Ma io ti ho trovato. Mi spiace per te. Ti saluto, idiota. Elimina tutto quello che stai facendo per il bene di tutti. In che senso mi hai trovato? Sai dove vivo? Vedi che io vivo nei dintorni del triangolo della morte siciliano, cioè non so se hai presente la zona dove riversano tutti i prodotti della raffinazione petrolifera, cioè moriresti di avvelenamento da polveri sottili e mercurio prima di poter bussare alla mia porta, a patto di riuscire a schivare le zone dove seppelliscono l'amianto non smaltito. Io sono inespugnabile. Nei miei restanti due anni e mezzo di vita sono intoccabile. Povero illuso. Bene, detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi perché da 25 a 26 mila ci siamo arrivati in pochissimo tempo. Vi ringrazio tantissimo e sono sicuro che potrete fare lo stesso da qui ai 30 mila iscritti. Lasciate like per fare in modo che il canale venga consigliato in modo da dimostrare a tutti la verità dietro le uova di Chiara Ferragni e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!